Intervento di un'esercizio Intervento dei vigili del fuoco dei carabinieri di Rivarolo Canavese nella serata di mercoledì 4 luglio intorno alle 23.30 in via Don Michele Cavaletto, frazione Visignano. L'allarme è scattato perché il tetto di un capannone dismesso ha ceduto, precipitando in parte sulla via, spavento per i residenti che fortunatamente sono rimasti in columi. I vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo provveduto alla messa in sicurezza. La strada resterà chiusa al traffico fino a quando non verranno effettuati tutti i recertamenti sulla struttura e non si provvederà ad una messa in sicurezza definitiva. Intervento di un'esercizio Intervento di un'esercizio Intervento di un'esercizio Grazie a tutti